Ciao a tutti gli amici di TV Studios, siamo tre attori di Fuck the Zombies, una nuova serie tutta totalmente in inglese, è nuova e lui è Tommaso Arnaldi. Ciao, sono Tommaso Arnaldi, sono uno dei protagonisti della serie e speriamo che vi piaccia, l'abbiamo girato, abbiamo girato questo episodio pilota, l'abbiamo proiettato sia a Roma Fiction Fest che qui a Roma Web Fest e speriamo bene insomma, no? Alla grande, io sono Josh Adam, un altro attore della serie, siamo in tutto 18 protagonisti, e lei? Sono Claudia Genolini, sono un'attrice, ho partecipato a Fuck the Zombies, l'abbiamo presentata oggi, abbiamo già fatto un'altra presentazione a Roma Fiction Fest, è la puntata zero, stiamo cercando una produzione, stiamo facendo anche una raccolta con il crowdfunding su internet, siamo tutti giovani, abbiamo voglia di fare, guardatevi la puntata e speriamo che vi piaccia. Ok, il nostro obiettivo appunto è quello di raggiungere l'estero, quindi qualsiasi produzione ci stia in questo momento guardando, siamo qui, contattate il regista Daniele Barbiero, e che dire, Ad Maiora, no? Siamo d'accordo. Guardate il teaser trailer che sta su YouTube, di Citando Fuck the Zombies, di Daniele Barbiero. Ok, ciao! Ciao!